Hanno già patito notevoli disagi, ma purtroppo per i cittadini della frazione terranovese di Piantravigne le pene non sono ancora finite. A poco più di due settimane dalla riapertura della strada comunale, avvenuta lo scorso 14 giugno dopo lunghi mesi di chiusura, l'amministrazione comunale ha ufficializzato che la strada dovrà essere nuovamente interdetta al traffico per far spazio alla seconda parte dell'intervento, ovvero quella di messa in sicurezza del borro che costeggia l'asfalto nel tratto più a valle. Le opere verranno effettuate in agosto per ridurre al minimo i disagi. Purtroppo per effettuare questi lavori occorrerà riprevedere disagi per i cittadini e quindi una costruzione di un senso inalternato e la chiusura per due o tre giorni anche nuovamente della strada. Il nostro impegno è stato quello di cercare di farlo in un periodo, anche se si poteva fare adesso in luglio, in un periodo più opportuno a creare il minor disagio possibile ai cittadini, quindi nel mese di agosto. Ecco il dettaglio dell'intervento. Adesso ci troviamo ad affrontare il secondo lotto dei lavori che riguarda la parte a valle, che riguarda soprattutto il borro e appunto andremo a fare queste lavorazioni che vedono la costruzione di una scogliera per una misura di circa 30 metri, sono due scogliere. Faremo una recimazione delle acque e riprofileremo le fossette stradali e andremo a rifare anche l'asfalto ovviamente che verrà danneggiato per la costruzione della scogliera. Questi invece i tempi previsti per la realizzazione. Si spera in una decina di giorni di completare i lavori, con tre giorni di chiusura della strada di effettuare tutte le lavorazioni. Diciamo l'impegno economico anche qui ammonta all'incirca 25 mila euro, che è sommato a quello ammonte che erano di una cinquantina di mila euro, sui 75 mila euro di lavori per ripristinare i danni creati dal maltempo. I cittadini di Piantravigne dovranno portare ancora un po' di pazienza, con la speranza che in futuro gli interventi in corso d'opera possano effettivamente ridurre il rischio smottamenti.